C'è un piano sperimentale della viabilità nel centro storico di Gubbio, valido fino alla fine di giugno, pensato per contemperare le esigenze di tutti i portatori di interesse che ruotano nel centro, operatori commerciali, residenti e visitatori occasionali, ma è un piano che non riesce a convincere tutti. Dal 18 al 30 giugno, via Cavour, che immette nel cuore della Movideogubina, tra le piazze Bosone e Giordano Bruno, sarà come sempre chiusa al traffico dalle 18.30 alle 6 della mattina successiva, nei giorni feriali, chiusura dalle ore 11 nei festivi. Via De Consoli, nel tratto antistante il ponte di San Martino e Via Vantaggi, chiuderanno solo nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, ma mentre nel weekend la chiusura è dalle 19, il giovedì e venerdì è alle 20.30. Via Piccardi, tra le più suggestive del centro, che da piazza 40 Marti riapre il canocchiale visivo su Palazzo De Consoli, sarà chiusa dal venerdì alla domenica dalle 18.30, con estensione nel festivo anche dalle 11 alle 15. Chiuso dalle 18.30, da venerdì a sabato, l'anello intorno ai giardini piccoli di piazza 40 Martiri, chiusura dalle 11 nei festivi. In Corso Garibaldi resta la chiusura dalle 18 nei feriali, dalle 11 nei festivi. Dal 28 giugno al 30 settembre, Via De Consoli, Via Gattapone, il primo tratto di Via 20 Settembre, fino a Largo Mastro Giorgio, nei giorni festivi vedranno il divieto di sosta, dalle 10 alle 20, per consentire la collocazione di De Ors. Ai residenti la possibilità di parcheggiare al primo piano interrato del parcheggio della Funivia e presso l'ex seminario. Si muovono su due linee le criticità riscontrate in questo piano da Host, l'associazione che riunisce ristoratori ed albergatori di Gubbio. La prima riguarda il concetto stesso di sperimentazione. Intanto parlare di sperimentazione sembra veramente in questo momento assurdo, considerato che siamo già a quasi fine giugno e quindi è impensabile fare una sperimentazione adesso. La sperimentazione doveva essere fatta molto prima. Sono molto preoccupata perché la programmazione di un ristorante non si fa di settimana in settimana. Poter anche pensare di lavorare su luglio e agosto, creando magari delle serate, degli eventi, al momento non c'è possibile perché si parla di 30 giugno. Quindi significa che luglio al momento per noi è un'incognita. La seconda criticità entra nello specifico degli orari di chiusura al traffico e della possibilità di posizionare tavoli in esterno che in alcuni casi non è stata per ora contemplata. Lavorare con l'età adesso la gente vuole solamente usare gli spazi esterni perché internamente ha paura, purtroppo dovuto alla pandemia comunque sia la gente ha paura e dentro gli spazi interni non si usano più per nulla. Quindi questo comporta, soprattutto nel periodo del pranzo, perché poi Corso Garibaldi dalle 18 in poi è chiuso, la chiusura dell'attività perché tanto non conviene rimanere aperti per fare zero persone. Poter usufruire magari, senza chiudere magari la strada e tutto perché ci sono altre attività commerciali che magari hanno bisogno di essa, poter usufruire da mezzogiorno alle 3 di due spazi che sarebbero i parcheggi alla destra del corso, questo di cui permetterebbe perlomeno di non chiudere l'attività. Quello che ho visto è che la città è completamente spezzata, è spezzata per chi può lavorare e chi no. Quello che è successo nella mia area di competenza è il giovedì e il venerdì, questa assurda, scusate la parola, idea di poter cominciare a lavorare alle 20.30, un ristorante non può cominciare alle 20.30, non posso avere la strada chiusa da quell'ora perché poi significa perdere un'altra mezz'ora, se tutto va bene, per sistemare la strada, quindi questo è invalidante, il venerdì soprattutto, cioè uno dei giorni più importanti per noi per lavorare, oltre al fatto del discorso del pranzo che era secondo me comunque risolvibile almeno il sabato e la domenica e invece non è stato assolutamente contemplato. L'auspicio è quello di poter già da domani rivedere questo piano traffico senza attendere il 30 giugno, Conosta che mette a disposizione la sua esperienza nel proporre, ferma restando la decisione improcrastinabile di quale città si vuole che Gubbio sia. Io penso che possano convivere benissimo alcuni orari perché poi i ristoratori non chiedono la chiusura totale delle strade, cioè 24 ore su 24. Purtroppo però deve essere abbastanza chiaro che Gubbio deve prendere una strada, che può essere quella turistica o no. Se si prende quella turistica è ovvio che si deve guardare questa città un po' con occhi diversi.